Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Fratagame, eccoci tornati nel nuovo episodio di Red Dead Redemption 2. Allora, riprendiamo la nostra avventura, siamo diretti verso Dutch, dovevamo continuare la missione della volta scorsa, dobbiamo tra virgolette intrufolarci e silenziosamente per ammazzare Angelo Bronte, quindi mi trasferisco da Dutch e ci rivediamo appena arrivo. Ok, siamo arrivati, dunque prima cosa assolutamente mi piazzo su la doppietta qua e questo bel fucilozzo qui, qua ci siamo, perfetto. Vai, spero che stavolta le armi me le faccia portare, perché sennò sono dolori. Attenzione che cadiamo in acqua. La vendetta è un piatto che va servito? Freddo immagino. Eh, Bill, tu eri un sottotitore in la cavale, non? Cosa? Quando ci siamo arrivati, magari tu potrei aiutare con il fuori di soppressione. Non ho mai detto che non ero un sottotitore. Oh, è proprio, che era? Il più sottile della natura, la trina. Lattino, non è così? Sì, io l'hovoca, e l'hovoca molto bene. Quindi ti dicci sempre. Ti insegnava qualcosa che tu puoi fare con il compagno. I indiani erano i savagini. Guarda il tuo cuore, ragazzi. Guarda. Il solo tipo di savagino in queste parti, i miei mondiali, pomposi, inbredi locali. Dutt, non ho visto cose... Non ho dubbio che ho visto cose, Bill, ma il tuo piccolo, mio, è troppo piccolo per comprendere. Lo che ho visto, lo che ho visto, sono persone che perdono tutto per la savagia, la savagia di pezzi, la scuola che vengono da Europa per rispondere un po' brutto vengenza sulle creazione di Dio. Interessante, che tu ragazzi hanno bisogno di preparare per la scuola. Mi scontro, ho scontato la mia vita cercando di insegnare a te ragazzi. Lo che ti amo, lo che ti amo. Beh, lasciando l'amore, pensi che abbiamo questo? Non ti non lasciando l'amore, Arthur. È tutto ciò che abbiamo. Adesso sì che iniziamo a divertirci, ragazzi. Eh, grazie. Scavalchiamo? Scavalchiamo? Scavalchiamo anche noi. Andiamo, andiamo. Ah, ok. No, non mi faceva mettere giù il personaggio. Dovrei equipaggiare un'arma in questo momento ma voglio aspettare per vedere se ci cunzano o no. A parte che mi vorrei mettere su il coltellozzo. Così almeno... A parte che c'ho anche... Aspetta va. Eh, ci proviamo. Ne ho otto. Però, un momento, che mi devo ricaricare il Dead Eye. Se no, ciao. Ok. Allora. Facciamo una bella cosa. No, 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 no! Mannaggia la puttana. Sei proprio un coglione. Posso dirtelo? Cioè, se dobbiamo fare una carneficina, tanto vale. Ah, no. Casino della madoncina è successo. Si è messo contro la gente sbagliata, mio caro. Italianozzo. Tenti qua i... i paroloni italiani. Olè. Olè. Chi è? Ah, adesso si ragiona, vero? Olè. Cazzo, qua sono... In bella vista, però, eh. Oh, che figata. Olè. Crepa. Dai, carica, carica. Perfetto, c'è ancora una lì. Lassù. Mamma mia, devastazione pura sto... Doppio canne. Olè. Andiamo, andiamo. Sfondo. Sfondo. Uh, tutta neva. Un momento. Ok. Ok. Sì, sì. Questo è quello che credi tu. Mamma mia, ragazzi, la testa è andata. Olè. Qua ce ne sono altri. Perfetto. Voilà. Aspetta che qua ce n'è un altro. Vai. Vai. Dormi. Cazzo. Ma se starvi non venite segnati sulla mappa. Olè. Allora, sul piano superiore. Deve cazzo si sale qua? Qualcuno c'è sicuro. Di qua si esce, però. Vai, qua la scala. Mamma mia, l'odio io il movimento di questo. Oppela. Sì, ci sta. Bellissimo. Realistico a 100%. Per cento. Arriva. Merda. Olè. Dunque, iniziamo. No. Prima questa. Merda. Maffanculo. Olè. Qua non c'è. Sbemmete. C'è un altro? No. Spostati, John. Merda. Olè. Sbemmete. Sbemmete. Sbemmete, amico. No. Nel mio prezzo. Nel mio prezzo. Tutti hanno un prezzo. Ok? Ok. No, mi sorriso. Mi sorriso. Sbemmete? Credo che Dutch vuole avere un po' un po' chè. Qui c'è una pistola rara, ma me ne spatto il cazzo. Ma, permeno fatemi impiazzare... Ah, ok. No, però voglio questa. Voglio. Non si sa mai. Ah, dobbiamo scendere, giusto. Cazzo. Ma al culo sti federali della mincia. Siamo calmi. Grande. Eh, si è comprato le sbirri, lui. Guarda, un momento. Grande. Oh, le. Mamma mia, che spettacolo. Grande. No, vabbè, troppo. Porcazzo. Ah, un culo bastardo. Sono in tantissimi. Sì, ma io questo me lo devo portare appresso. Eh, almeno paratemi il culo. Merda. Crepa? Eh. So già che io faccio una brutta fine qua. Grandissimo. Colpo da biliardo. Perciò che ci sono. Non lo so che c'è più. Non lo so. 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 in una città! E quando la legge si tratta con te, te succederà come nulla! Sono questo paese! Sei quello che la gente si tratta! Poi possesso cose che non lo capirà mai. Non ti possesso non possesso i propri dici! 1000 dollari per la persona che ha uccionato e mi libera! Ma cosa stai dicendo adesso? Sono ancora più grandi senza dubbio! La legge si tratta! Oh sì! Tu stai dicendo! Ma sono così! Sono bene a smacere la fila! Quindi la fila deve essere di questo uomo! Voi i miei amici di Pekernand sono arrivati a te! Tu impulsivi, piccolo, maggiore! Calle ora! ora! Voi chiamati loro! Jesus! Cosa di vostra bambina di filosofia c'è il figlio dell'alligato, dutch! La parte che c'è la fortissima. E' questa parte. Non lo so. Beh, lo so. Non è bello. Lo so. Ma se è noi o lui? Lo so che sia lui. Mamma mia ragazze, che cattiveria. Eh, qua stanno facendo un botto di missioni. Eh, vabbè, ma io voglio continuare, sono troppo curioso. C'è un po' di scopi. Se ci si tratta qui, sappiamo che siamo morti. Ma il plan? Abbiamo un po' di buona, ma come combattere. I città non sembrava così difficile, solo che si riusciamo in più. Credo che fare in questo giorno, con una distraczione. E' quello che dice José, è un plan che è un po' di più. Credo che mi stia. Lo facciamo a la notte, c'è il dramma di entrare in la banca. Non puoi fare così silenzialmente. Puoi uscire più facilmente. Non, sto facendo sicuramente. Tutti il progetto è un progetto bene se lo realizziamo. Tutti i problemi che abbiamo avuto era perché non lo realizziamo. Anche Blackwater, da mia comprensione. Tu è vero. L'abbiamo a prendere questo uomo. Tutti che si resta. Ci sono riuscire in la mattina. Si sembrava. Un'azietta. Un'azietta. Hai tutto, Arthur? Certo. Quindi, abbiamo prendere un banca e dopo sei setti, viviamo un' vita nuovo in una idola tropicale, spendere il ultimo dei nostri giorni come bambini. E vai. Partiamo per rapinare una banca, che spettacolo. Allora, dove abbiamo ascoltato questo? Cosa ti ha fatto fatto, John? Tu hai perduto tutto il tuo cuore. Io ho cercato di essere reale su tutto questo. Reale? Oh, come ho detesto quella parola. È così semplice di immaginazione. Cosa presto stiamo spettando? L'azietta che abbiamo organizato un passaggio. Un'azietta all'Argentina, poi un'azietta all'interno. Cosa per l'argento in Blackwater? Cosa per la luce dei nostri? Si. Un'azietta. L'azietta che è fuori. Non si parla come se è il solo guida in mondo. Ci siamo dovuti da quello che prendere da noi. E ci prendere da più. La loro parte che prendere da noi. Questa non è una operazione di stile di città. Questa è una banca grande città. Certo, con sicurezza, guardi, polizia. Hosea ha fatto la sua recontrazione, abbiamo avuto questo. Il progetto, un'ultima volta. Hosea e Abigail, vengono la polizia, andiamo in calma e rapidamente. John e Lenny, guardiamo le porte fronte, Javier prende la scuola di parte, Bill, Micah e Charles controlla la città. Now, me e Arthur deal with the bank manager and vault, got it? Got it, got it. Good, all right, that's enough talk. Gentlemen, let us go ahead. How long do you need? Not long, 15 minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on! Everybody know the drill. We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Then ride on with your... This is it! One more time! Let's ride! Perfetto, signori. Siamo arrivati in città. E qua succederà il pandemonio più devastante del pianeta. E saremo costretti comunque sicuro a cambiare di nuovo casa. Non diamo nell'occhio, no? Poco, siamo vestiti benissimo e viaggiamo in venti. Ah, cazzo, giornale. Eh, vabbè. Lo raccoglio i giornali semplicemente perché so che si possono usare i trucchi come in tutti i giochi rockstar game in pratica. Eh, però li puoi sbloccare solo se raccogli i giornali. Mi sembra di aver capito così. Aspetta il diversivo di Uzi insieme a Dutch. Ah, però aspetta, eh, che cazzo, eh. Un momento. Perché questo me lo metto e mi piazzo su anche questo. Ok. Ok. Stai cool, ragazzi. Attac natural. Wait for Hosea to do his thing. Hmm. This, this è better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. Andiamo, andiamo. Mamma che sfigata, che sfigata. Sono troppo emozionato. Equipaggio la maschera. Eh, sti cazzi. Oh, le. Sono pronti? Perfetto. Da che parte iniziamo? Ok, ora allora, Arthur. Would you please have, signor bank manager here, open the door. Dai, muoviti. Apri sta cazzo di cassaforte, va. Open the valve tunnel. Ah, funziona allora. Dai, fammi entrare, va. Ok. Scassina sta cassaforte, va. Allora, iniziamo. Ok, ora, qual'è il secondo numero? 72. Perfetto. Allora, dovrebbe essere un numero più, il numero ultimo numero. Come on. 54. Ti ho fatto questo, Mr. Ramp? Ok, ma... Perfetto. Uuuuuh. Suuota, suuota. Mamma mia. Ah, già a posto, così? Let's go. Ma come? La più piccola ho aperto, cazzo. Ma porca puttana. Think we got a problem out here? Come out! It's over! Shit. Ah, guarda, tempokice. Get out here! Get out here now! Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Ha, why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains. No more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. No. God damn it! No, God. There's your deal, Dutch. Maledetto bastardo. Ah, adesso ti ammazziamo. Olé. E non scappare, mio caro. Non scappare neanche. Adesso siamo occupati a dovere per una super battaglia, eh. Che figata. Vieni qua. Così. Aspetta che prendo quelli più facili. Qua ci concentriamo su quelli un po' più difficili. Perfetto. Dove va, mio caro? Ok, bello. Aspetta che questo li pinzo in due. Olé. Perfetto. Merda. Questo non riesco a prenderlo. Vaffanculo. Cazzo. Andiamo da questa finestra di qua. Olé. Aspetta. Bella. Vai da Dutch. Dove cazzo è Dutch? Puttana galera. Sono qua, sono qua. Prendi. Andiamo di là. Allora, dinamite. Piazza la dinamite. Posto? Mamma che spettacolo. Usciamo? Ah, si va sopra. Grande. Eh, ma... Ok, da qua. No, ma sempre più figo diventa sto gioco. Aspetta, aspetta. Vai, vai. Poi? Vai. Eh, balordo. Crepa. Rimino gli uomini di legge. Ok. Perfetto. Eh, ce ne sono... Tanti cazzo, però, eh. non ho neanche più tanti colpi di questo fucilozzo. Dai, porca puttana. Ok. Vai così. Perfetto. Merda. Perfetto. Ottimo. Ci sono altri? Sì. Tantissimi altri. Dormi lì. Oh, cazzo. Merda. 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 Ok. No, 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 no. Non so dove cazzo è il tipo, porca puttana. Eh, non l'ho preso. Oh, sì. Non so com'è morta, ma va bene. Merda, dove sparo? Perfetto. Dai, dai. Uh, doppietta proprio. Bella lì. Grande. Grande. Dai, ma. Seguiamo Lenny sui tetti. Mamma mia. Merda. Oh. Cazzo. Ole. Morto? Merda. Tutti morti, porca puttana. Ci stanno ammazzando come formiche. Oh, dai, 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 Arturo, svegliati, porca madoncina. Oh. Dai, mi fai scendere, però. Vedete quello che io intendo? C'è il meccanismo. Non c'è fluidità. Andiamo, andiamo. Bastardi di sbirro, ce l'hanno ammazzato praticamente tutta la banda. Arthur. Arthur, possiamo arrivare qui. Ok, dai. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. E' tutto ciò che ho ho. E' veniva. E' veniva. E' veniva. E' veniva. E' veniva. E' veniva per qualche settimana. Sì, ma in sostanza non ho capito quanto abbiamo rubato alla fine, perché se questo doveva essere il colpo che ci permetteva di lasciare tutto e vivere come dei campagnoli, non... Boh. Che spettacolo, però, eh. Non si può dire che... Merda. Eh, non si mette giusto, coglione. Ok. Ok. Dai, io li ammazziamo o andiamo, eh. Cazzo, sono pieno, è pieno. Sarebbe stato figo se ci facessero un film? Che te lo gusti tutto senza doverlo giocare e ti guardi solo le scene, amiche. Che spettacolo sarebbe. Cazzo. Non vedo perché abbiamo bisogno di controllare il treno. Hanno solo scoperto il Banco di Lemoyne. Non sembra che si prenderanno la prima linea fuori. Ma il Milton ha detto, Milton ha detto molto. Ehi, non ci sarò qui tutta la notte. Ce la facciamo? Hai intenzione di star lì tutta la notte? Ok, allora. Gli altri non sono dietro, però. E chi c'è? Non c'è? Ah sì. C'è due, ce ne sono. Non ci saranno mai passati questi ragazzi. Arthur. Andiamo all'acqua. Vediamo se puoi uscire. Uscire? Come? Non lo so, faccia un ruolo o qualcosa. Ok dai, andiamo in qua. Perfetto. Ammazzate voi? Aspetta che ti devo raggiungere, non so neanche dove sei. Ah, ok. Oh, ok. Parte la... Cazzo. Vedete? Certo. Cosa pensi? Non lo so. Stanno guardando per noi? Potremmo. Potremmo non. Beh, non ci sono solo aspettati per nessuna. Sì, mi pensi per un secondo. Non so. Non so. Cosa? Non so. Non so. Non so. Non so. Quando mi chassano, tu fai la altra. Cosa parla? Tu hai visto cosa che ho detto? Oh, mi piace. È davvero bravo. Che cosa in the hell? Chi è... Excuse me, buddy! Hey, stop! Stop, stop! È uno dei più becchi atti che ho mai visto. Come va! Eh, madonna che veloce che sei, Dutch. Un momento. Cazzo. Saliamo sul Titanic? Speriamo di no. Però cazzo, la donna che era con noi. Il nostro campamento. Boh... Cosa ora? Beh, almeno abbiamo qualche dolore. Sì, sicuro. Questa pesca non va a Tahiti per alcuna possibilità. Non lo so. John. Lenny. Jose. Non era buono. Non lo so. Quindi, cosa faremo ora? Credo che mi presento al capito. Diciamo un po' di questo obiettivo per assicurare il suo silenzio. E vediamo dove stiamo andando. Cosa mi sembra? Cosa? 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 Sì, prenderà un po' di più di oro, ma credo che stiamo bene. Questo capitano è un ottimo ragazzo, un New Englander da Cape. Il resto del船 è un franzo. Sono andando a le isle, prendendo un po' di Pennsylvania. Ora, apparellamente, potremo andare a scoprire un po' di Cuba in un po' di giorni. Questo, apparellamente. Cosa faremo in Cuba, Dutch? Prendere un po' di tempo, e poi riuscire a fare la resta di nostra famiglia. Ati che abbiamo un po' di money, money e loyalti. Con questo, puoi fare lo che vuoi. Quindi, credi che ci seguiremo in Cuba? Come Colonel Waxman a una joli? Non lo scopo, credo che ci prendiamo a noi, e questo è Don e Dustin. Sì, spero che. Non c'è un po' di scopo, ma... E' un po' di scopo, sembra un po' di buono. Grazie a te. Se volete un'altra! Sì, senti una volta, tu senti! Tu vedi la mia madre, mi sono proprio dietro! Jesus! Ruggi! Ruggi! Mi bene! Tu? Si No, questo non si muove No, tu andi inizio E provo a trovare un altro modo Oh, Dio Dio Ma come ha cazzo fatto a prendere fuoco? Merda 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 Minchia ragazzi ma dove siamo finiti? Da soli senza armi Senza scarpe Senza la meta Che casino è successo ragazzi Che casino Quando si poteva semplicemente cambiare posto Studiare la zona Rubare e andare di nuovo via Che disastro Sto appunto per finire su un'isola deserta Tanto vale essere Consegnarsi A quei maledetti E te ne stavano in prigione Servito e riverito Ma Gli altri dove saranno finiti? Quei pochi che sono rimasti Della nostra banda Qua può camminare solo in una direzione Quindi E' dritto per dritto Laggiù si intravede terra Però farsela nuoto è da suicidio Poi magari siamo semplicemente Abbiamo semplicemente fatto il giro E ci siamo ritrovati su una specie di isola Ma Non lo so Vedremo Curiosità a manetta Dentro la mia testa E' dritto la mia testa E' uno spettacolo Capitolo 5 Guarma Vabbè non siamo neanche tanto distanti dai Attenzione Siamo a pezzi Fumo Vabbè ragazzi Io direi che però l'episodio lo faccio finire qua Lo riprendiamo la prossima volta Ci siamo Trovati su un'isola deserta Sembra Ma Non credo sia proprio così Però vabbè Vi lascio con la suspense E la lascio anche a me Perché non posso continuare purtroppo Quindi ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Per supportarmi Condividete Lasciate like Mi raccomando ragazzi Se avete qualche domanda Utilizzate i commenti Sotto i video O seguitemi su Instagram E iscrivetevi su Instagram Detto questo Grazie mille per avermi seguito Io vi rimando al prossimo episodio di RDR2 Un bacione E una bacia da Defratta Game Ciao ragazzi Grazie mille per avermi seguito Grazie a tutti.